I dati dicono che abbiamo i canili troppo pieni, abbiamo i canili troppo pieni e questo è un costo elevato per l'amministrazione. Quindi bisogna cercare di trovare delle soluzioni che vanno a risolvere il problema del canile. Quindi il canile deve essere di supporto al comune, non deve essere un ricovero per tutti i cani. A te riguardo ci sono dei progetti proposti da alcuni consiglieri, alcuni progetti addirittura prevedono, ovviamente questi sono progetti che sono solamente in fase estremamente embrionale, quindi non sappiamo l'effettiva tenuta della proposta. Però ci sono alcuni progetti che prevedono degli sgravi fiscali per chi ha dotto un cane, ci sono progetti che vedono addirittura un'interazione fra scuole e campi di addestramento canili proprio per favorire l'interazione fra cani e la popolazione, in modo tale da sensibilizzarli al problema e tenere sempre l'attenzione molto elevata sulla questione, non lasciare solamente che in occasione del problema bisogna ricorrere poi ai ripari. Le lamentele quotidiane che noi riceviamo sono quelle del... perché noi non dobbiamo disconoscere che noi abbiamo cittadini che ahimè hanno terrore e paura dei cani, degli animali che sono lasciati diciamo allo Stato brado a se stessi e quindi lamentano questa presenza sul territorio di animali vaganti. Ma abbiamo problemi che possono sfociare in problemi di carattere igienico-sanitario per problemi virali o situazioni che si possono innescare per la presenza di cani non curati sul territorio.